Le future prestazioni del Santa Croce, la clinica privata a Chiaruccia e fondi per la viabilità. Sono questi alcuni punti indicati nel protocollo d'intesa tra Regione Marche e Comune di Fano, che verrà firmato martedì prossimo ad Ancona. Nonostante le critiche dei consiglieri d'opposizione e il parere contrario di qualche cittadino, il Sindaco va avanti, dritto per la sua strada, sicuro che questa sia la scelta migliore per la sanità locale. Sindaco, quali sono i punti forti e i punti deboli di questo accordo? Ma io in questo protocollo vedo solo punti forti ed è forse proprio questo che dà fastidio. Il problema è vero che c'è tanta confusione e alla gente si raccontano tante storie e non si rimane fermi sui concetti. Allora, gli elementi quali sono? Primo, la Regione, a prescindere da quello che possiamo pensare, ha deciso di realizzare una nuova struttura convenzionata. Bene, vogliamo che questa struttura si faccia a Pesaro o a Mondolfo o in un'altra città o lo vogliamo fare a Fano? Io sono per farla a Fano ed è un servizio, sono opportunità economiche, sono cose che arrivano nella nostra città. Quindi quell'accordo prevede questo, che ci toglie dalla competizione con altri comuni. Secondo, Santa Croce. Fino a prova contraria, gli accordi stipolati nel 2012, quando Massimo Seri non era sindaco di Fano, definivano che una volta realizzata la nuova struttura ospedaliera, il Santa Croce veniva chiuso. Queste sono le cose scritte nero su bianco. Con questo protocollo, Massimo Seri, sindaco, con la sua amministrazione, ha ribaltato questo concetto, e cioè che il Santa Croce rimane ospedale aperto a Fano. La terza questione, ha proseguito il sindaco, riguarda le risorse senza precedenti. Per la prima volta nella storia della Regione si dà un contributo di 20 milioni per migliorare la viabilità. 90 nuovi posti, di cui 50 di RSA per la città di Fano. Scusate se poco. L'altro elemento che da tutto il mondo giustamente si è sempre richiesto, chirurgia H24, perché se c'è un'emergenza notturna si deve andare all'ospedale di Pesaro. Anche oggi è così. Bene, con questo protocollo, oltre a scrivere nero su bianco la presenza di reparti, c'è anche nero su bianco la presenza di chirurgia e medicina d'emergenza H24. Che cosa risponde per concludere a chi sostiene che lei firmerà così la fine del Santa Croce o chi ha contestato la legittimità della firma di un documento che non è stato discusso in Consiglio Comunale? Due inesattezze. Io seguo un'indicazione del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale ha votato un ordine del giorno, un documento, una mozione, a larga maggioranza, e io il giorno dopo ho inviato una lettera con quei contenuti dove chiedevo di attuare quei contenuti attraverso un protocollo. Per chi dice la firma del Santa Croce, anche questo, io ripeto, fa male, perché chi mi contesta sono proprio quelli che hanno siglato l'accordo della fine del Santa Croce. La fine del Santa Croce è stata assegnata nel 2012, delibera di giunta regionale 2012, con l'individuazione del nuovo ospedale a Fosso Segliore con la chiusura del Santa Croce e San Salvatore. Bene, con questo protocollo, intanto il Santa Croce rimane aperto. Qui si fa sempre riferimento all'eventualità del nuovo ospedale. Quando ci sarà il nuovo ospedale di Muraglia, il Santa Croce rimarrà aperto e rimarrà ospedale.